Si è appena conclusa la conferenza stampa NetKeyo dove è stato presentato un nuovo NAS, Consumer, si chiama Stora, ed è un vero home media server per la casa. Le funzioni essenziali sono un'interfaccia web estremamente semplice che non solo permette di gestire i contenuti sulla propria rete locale, ma anche di accedere a foto, video e quant'altro anche da fuori casa e di condividere con parenti e amici in modo piuttosto semplice. È distribuito a partire da tagli da 2TB, ha un design molto più consumer e molto più adatto all'utilizzo in casa.